Servizio civile in Italia e in Africa si rinnova questa possibilità per dieci giovani. Quali sono i progetti della vostra associazione e in che modo è possibile partecipare? Anche quest'anno l'Africa Chiama partecipa all'attuale bando di servizio civile con quattro progetti di cui tre in Africa, uno in Kenya, uno in Tanzania, uno in Zambia e uno in Italia qui nella sede di Fano. Tutti i progetti afferiscono al programma di inclusione per le persone fragili e le modalità per partecipare sono presentare la propria candidatura attraverso l'apposita piattaforma istituita dal Dipartimento per le politiche giovanili, la piattaforma DOL. È possibile presentare la domanda entro il 10 febbraio alle ore 14. Tutte le domande che arriveranno dopo l'orario o in altra modalità purtroppo non saranno prese in considerazione. Presenterete in altri modi l'iniziativa? Presenteremo l'iniziativa il 26 gennaio insieme a tante altre associazioni attive sul territorio di Fano e dintorni in un evento appunto dedicato al servizio civile, un open day dedicato a tutti noi enti, a tutti i giovani interessati a intraprendere questa esperienza. L'appuntamento è appunto per il 26 gennaio dalle 15.30 alle 17.30 presso la Mediateca Montanari organizzato in collaborazione con DEDALOR in forma giovani di Fano. Erika tu stai vivendo un'esperienza concreta in questo campo, a quale progetto hai aderito e perché hai deciso di iscriverti? Allora io ho scelto di iniziare questo percorso che dura un anno diciamo per crescere a livello personale e professionale ma soprattutto per addentrarmi un po' in quello che è il terzo settore. Con l'Africa Chiama noi volontari in servizio civile appunto facciamo parte di vari progetti uno dei quali per esempio quello a cui siamo insomma in cui siamo più impegnati è appunto quello del doposcuola dove aiutiamo bambini di diverse nazionalità ma anche italiani appunto a eseguire i compiti. State seguendo anche altre attività? Sì oltre al servizio del doposcuola appunto seguiamo l'organizzazione di vari eventi insieme ai collaboratori appunto dell'Africa Chiama e poi tra poco inizieremo a fare laboratori nelle scuole primarie di primo e secondo grado per diciamo riguardo la cooperazione internazionale e argomenti di questo genere. Consiglieresti il servizio civile anche ai tuoi coetanei? Assolutamente sì, è un'esperienza di crescita molto importante e si può imparare molto e aprire un po' appunto delle vie che senza il servizio civile non potremmo conoscere.